Sì, abbiamo contestato questa velocità estrema del calendario, una velocità che non si era mai vista sui provvedimenti quelli reali, quelli importanti, quelli per esempio economici, ma che invece la Boldrini, seguendo pedesequamente l'input di Renzi, ha voluto imporre sull'Italicum. Anche rispetto a questa ennesima forzatura di Renzi, a questo metodo di Renzi, noi abbiamo detto no e abbiamo abbandonato i lavori.